amici d'inno al cinema bentornati sul canale buon inizio settimana si è appena concluso un weekend dal meteo abbastanza ballerino prima il sole poi l'umidità a palla poi la pioggia poi il vento ieri sera fulmini e saette in cielo ma l'importante è che sia finito questo weekend pazzerello di quasi estate che ci troviamo qua ogni lunedì mattina come ormai è nostra abitudine per tutti i numeri del lunedì il box office di inno al cinema sono ormai alcune settimane che facciamo la cronaca quasi annunciata mi sento di dire di un'estate abbastanza nera per quanto riguarda i botteghini di tutto il mondo i inclusi quelli italiani questo weekend va detto mettiamo subito le mani avanti ci sono buone notizie per quanto riguarda la nuova grande uscita di questo weekend negli stati uniti e in tutto il mondo ci sono buone notizie per un paio di teniture nella top 10 americana e di conseguenza anche negli incassi degli stessi film nel resto del mondo va avanti una tragedia della quale continuiamo a non capacitarci anche se ormai dobbiamo dopo questo terzo fine settimana abbracciarla e rassegnarci a chiamarla per quello che è appunto una tragedia un altro esordio insommina ma è purtroppo per alcune buone notizie continuano anche quelle nere nerissime soprattutto legate all'andamento dei botteghini italiani è un bagno di sangue ragazzi ma partiamo dalle note positive noi siamo ottimisti di natura nonostante anche altri risultati che sono arrivati nel weekend partiamo come sempre da lontano partiamo dagli stati uniti dove c'era curiosità e attesa per l'esordio del quarto capitolo del franchise di bad boys lanciato negli anni 90 e poi proseguito negli anni 0 da michael bay ripreso poi nel 2020 da altri registi cosa che un po' mi lasciava scettico anche se i due bad boys sono tra i film di michael bay che meno apprezzo fatto sta che bad boys for life il terzo capitolo era stato un successone nelle settimane che hanno preceduto l'esplosione della pandemia di covid 19 vedremo a breve i dati anche in rapporto con questo quarto capitolo bad boys ride or die che è appunto arrivato questo weekend nelle sale di molti paesi ma non in quelle italiane dove arriverà comunque a brevissimo c'era molta curiosità c'erano molte aspettative che non sono state deluse infatti si può dire finalmente che un film ha aperto decisamente sopra le aspettative con ben bad boys ride or die ha aperto negli stati uniti con ben 56 milioni di dollari risultato importante soprattutto nel contesto di questa primavera estate che fatica a ingranare la marcia dicevamo prima facciamo un rapporto in relazione appunto al film precedente della saga che era uscito nel weekend dal 17 al 19 gennaio 2020 quindi veramente a un passo dalla pandemia e dalla chiusura dei cinema per tanti tanti mesi incassando 62 milioni e mezzo di dollari quindi una flessione c'è stata ma veramente minima di 6 milioni e mezzo di dollari vista la situazione attuale si può parlare fondamentalmente di un sostanziale pareggio il film tra l'altro ha ricevuto un cinema scorso e non mi sbaglio di a meno quindi il pubblico ha apprezzato molto la pellicola con un esordio da 62 milioni e mezzo negli stati uniti il film precedente bad boys for life aveva chiuso la sua corsa nelle sale nonostante anche l'interruzione della programmazione poco più di un mese dopo per colpa del covid 19 a 426 milioni e mezzo di dollari globali un risultato importantissimo soprattutto per il mese di gennaio per i mesi di gennaio e febbraio guardiamo i dati internazionali per capire dove può arrivare questo quarto capitolo della saga di bad boys nel resto del mondo questo weekend ripeto mancano anche alcuni mercati inclusa l'italia il film con will smith e martin lawrence ha incassato 48.6 milioni di dollari per un totale globale di 104.6 milioni alla fine del primo weekend di sfruttamento risultato veramente importante visti i tempi che corrono piccola nota a margine il circuito IMAX mondiale ha fruttato 8.2 milioni di incasso quindi quasi un decimo della cifra totale con un'apertura del genere un apprezzamento del pubblico quasi universale l'apertura in altri mercati e alcune settimane che se togliamo inside out dovrebbero dare poca o nulla concorrenza a bad boys ride or die non fatico a pensare che probabilmente non riuscirà a raggiungere il dato del film precedente anche se mai dire mai ma direi che sarà uno dei grandi vincitori anche rispetto al budget e soprattutto rispetto alle aspettative di quest'estate 2024 sicuramente supererà abbondantemente i 300 milioni mi sento di dire mi sento di prevedere una performance simile a quella del regno del pianeta delle scimmie magari non riuscirà a arrivare ai 400 milioni si fermerà un pochino sotto risultando però da qualsiasi punto di vista la si guardi come un successo importante successo importante di cui appunto i botteghini di tutto il mondo avevano bisogno io il film appena esce in Italia lo vado a vedere anche se ripeto non sono un grande fan della saga né dei due film di Bay né del terzo che comunque mi aveva intrattenuto più di quanto pensassi qui c'è veramente tanto apprezzamento da parte del pubblico e sono curioso di vedere questo film e ne parliamo una volta che sarà arrivato nelle nostre sale dicevamo prima ci sono buone notizie per due film della top 10 in tenitura e questi due film sono al secondo e al terzo posto della top 10 americana e sono entrambi film per famiglie di cui ormai è qualche settimana che parliamo al secondo posto negli Stati Uniti troviamo The Garfield Movie il film di Garfield con 10 milioni tondi tondi proiettati nel weekend che rappresentano un calo percentuale eccellente dopo tre settimane del 28.6% il film sta reggendo molto bene sta diciamo dimostrando le famose gambe lunghe che gli permettono di incassare a livello orizzontale in maniera importante e omogenea da un weekend all'altro il totale dopo tre weekend di sfruttamento negli Stati Uniti ha raggiunto i 68.6 milioni ci sta che riesca a sfiorare o addirittura superare i 100 milioni totali ma ha poca importanza la cosa perché finché dovrebbe avere un budget intorno ai 60 milioni di dollari questo weekend aggiunge 15.3 milioni fuori dagli Stati Uniti dove ha raggiunto un totale di 124.1 milioni e praticamente è un passo dai 200 milioni globali a 192.7 milioni questo significa che se questo weekend è incassato 25 milioni supererà tranquillamente i 250 finali risultando un investimento più che soddisfacente quadruplicando e forse più il suo budget iniziale quindi era partito un po' in sordina sia negli Stati Uniti che fuori dagli stessi ha recuperato terreno, ha dimostrato appunto di saper attirare anche dopo il primo weekend di sfruttamento il pubblico in sala e quindi anche The Garfield Movie si può considerare un successo di questi mesi primaverili del 2024 discorso un po' diverso per IF, Imaginary Friends di John Krasinski che con 8 milioni registra un calo ancora migliore di The Garfield Movie cala soltanto del 23.8% rispetto allo scorso weekend quindi un calo praticamente quasi pari a 0 raggiungendo i 93 milioni e mezzo di dollari negli Stati Uniti nel resto del mondo il totale ha raggiunto i 67.2 il totale cumulativo fra Stati Uniti e altri mercati è di 160.7 milioni qui lo sappiamo qual è l'handicap del film il budget che è decisamente più alto di quello di Garfield dichiarato a 110 milioni di dollari che sono veramente tanti mi sento di dire pure troppi 160 milioni superati un weekend appena conclusosi con una ventina di milioni incassati in tutto il mondo riuscirà a superare la soglia psicologica di 200 milioni? la vedo difficile credo che la chiusura più logica sia fra i 180 e i 190 milioni che comunque rappresentano una cifra importante per una proprietà intellettuale originale al contrario di Garfield che è un brand che unisce anche diverse generazioni non solo i più giovani quindi ripeto aveva diciamo un mercato di base meno esteso di Garfield non mi so spiegare sinceramente questi 110 milioni di budget magari ci saranno stati problemi di produzione magari non lo so se legati alla pandemia o al mondo post-pandemico insomma non lo so fatto sta che sono veramente troppi 110 per questo tipo di film che non ho ancora visto ma sto giudicando ovviamente dalle immagini del trailer che ho visto forse lo recupero domani ancora qualche milioncino da macinare non risulterà un grande successo grazie agli incassi in sala ma al solito avrà tutta una seconda vita in streaming in un video e compagnia cantante oltre a un po' di merchandising che non guasta mai insieme a Bad Boys Ride or Die esordiva un altro film che finalmente vedrò stasera e verso il quale nutro nonostante molte opinioni negative che ho sentito in questi giorni una grande curiosità ovvero The Watchers l'esordio alla regia per un lungometraggio cinematografico di una delle figlie di M. Night Shyamalan un regista che come chi mi segue lo sa amo alla follia Isshana Shyamalan The Watchers questo thriller che ricorda molto le atmosfere e i pitch i concept dei film di M. Night Shyamalan apre decisamente sotto le aspettative e con dei dati non dico deludenti ma poco ci manca 7 milioni negli Stati Uniti ci si aspettava almeno un incasso di 10-11 milioni ai quali si aggiungono i 4.7 ancora meno incassati nel resto del mondo per un totale di 11.7 milioni alla fine del primo weekend dell'isfruttamento siamo davanti a un film che anche riuscisse qualora riuscisse nelle prossime settimane a reggere bene non potrà vedere più di 30-35 milioni totali a fine corsa e qui c'è da porsi una domanda qual è il budget del film? la verità è che non si conosce non si conosce perché la produzione del film come è giusto che sia ogni scarafone bella mamma soia il film è stato interamente prodotto da M. Night Shyamalan che penso che se lo possa permettere quindi non è dato sapere qual è stato il costo di produzione del film ma un dato ce l'abbiamo sappiamo che una volta prodotto indipendentemente dal famoso regista il film è stato venduto dallo stesso Shyamalan alla Warner Bros per la distribuzione per una cifra pari a 30 milioni di dollari quindi la Warner ha buttato per un bel gruzzoletto sul film di Shyamalan che probabilmente non vedrà ripagato anzi sicuramente dallo sfruttamento in sala di nuovo non credo che sarà un bagno di sangue clamoroso non credo che si aspettassero molto di più io credo che per questo film si puntasse a un incasso massimo di 50-60 milioni almeno in un mondo in cui si è realisti in cui ci si rende conto del mercato in cui stiamo vivendo e in cui loro stanno lavorando però appunto da qualsiasi punto di vista lo si guardi questo esordio è decisamente basso sotto le aspettative vedremo perché ormai non è più neanche certa questa cosa se nelle prossime settimane il film riuscirà a guadagnare un pochino di riguadagnare un pochino del terreno perso in questo esordio il film lo vedrò stasera e poi lo recensirò ovviamente senza spoiler chiude la top 5 americana un altro film in tenitura a questo punto uno dei successi più importanti di questo inizio estate cinematografica è pensare che quando esordito circa un mesetto fa c'era chi pensava che avesse registrato un incasso deludente prospettiva e contesto il regno del pianeta delle scime ormai molto vicino alla fine della sua corsa nelle sale incassa negli Stati Uniti 5.4 milioni di dollari con un calo però ottimo del 39.8% vista anche ormai la durata della sua presenza nelle sale cinematografiche il film negli Stati Uniti ha raggiunto un totale praticamente pari ai 150 milioni 149.7 per essere esatti ai quali si aggiungono questo weekend 6.9 quindi ancora 7 milioni incassati comunque fuori dagli Stati Uniti 6.9 milioni fuori dagli Stati Uniti dove il totale ha raggiunto i 210 milioni per un totale globale di 359.8 milioni qui l'abbiamo detto lo ripetiamo l'ideale era sarebbe raggiungere la soglia psicologica dei 400 milioni che è diciamo il centinaio dove il il franchise nella sua epoca moderna ha visto il suo incasso più basso ecco mettiamola così siamo a 360 milioni con un weekend da circa 12 di incasso ormai credo che sia fuori discussione il raggiungimento dei 400 milioni ci si avvicinerà però io prevedo una chiusura intorno ai 385 se va bene 390 milioni forse no 390 secondo me sono troppi sono altri 30 odio però 30 milioni ce la potrebbe ancora fare vedremo nelle prossime settimane come il film risentirà della perdita di sale visto l'arrivo di Inside Out 2 e anche un po' appunto del ricambio dei titoli in sala però ripeto ci si poteva aspettare qualcosa di più forse sì ma per come stanno andando le cose in questo inizio estate direi che la Fox può tirare un sospiro di sollievo poteva andare decisamente peggio e arriviamo al sesto posto al sesto posto qui purtroppo la frase poteva andare peggio poteva piovere per citare Frank Christian Junior non calza perché ormai ci ripetiamo da un paio di settimane quelli un pochino più accorti quelli un pochino meno idealisti e romantici sapevano che Furiosa non sarebbe andato benissimo ai botteghini ma io neanche nei miei più neri negativi e pessimistici sogni mi sarei aspettato una performance catastrofica del genere ormai dopo tre weekend va detto a voce alta Furiosa Mad Max saga soprattutto negli Stati Uniti è un disastro dopo un'apertura decisamente poco incoraggiante io avevo invitato a provare a guardare il bicchiere mezzo pieno citando molte buone teniture che avevano permesso nei weekend successivi a film che avevano aperto così così di guadagnare terreno abbiamo visto che è successo anche questo weekend a Garfield a Eve ecco questo tipo di performance non si applica decisamente a Furiosa che dopo tre weekend di sfruttamento praticamente è già un morto che cammina in sala al punto che se non sbaglio il 25 giugno esce in digitale quantomeno negli Stati Uniti l'uscita in un video se non sbaglio invece è per settembre fine agosto i film di George Miller al suo terzo weekend di sfruttamento negli Stati Uniti incasta soltanto 4.2 milioni di dollari con un calo di nuovo verticale non è bastato quello della settimana scorsa del 60.6% il totale dopo tre weekend di sfruttamento e quindi tre settimane è di 58.7 milioni 58.7 milioni significa con 4.2 incassati al terzo weekend che il film probabilmente non raggiungerà i 75 milioni negli Stati Uniti di incasso totale un paio di settimane fa provavamo a dire dai magari 100 milioni li fa poi abbiamo abbassato a 90 stavo per dire ieri 80 e ho detto ma che 80 con 4.2 milioni è già tanto se arriva a 75 io dico 70 più che 75 è vero che ci sono l'infrasettimanale quindi io diciamo 75 forse 80 è un bagno di sangue ragazzi è un bagno di sangue le cose vanno leggermente meglio a livello internazionale dove i cali sono stati un pochino più sostenuti questo weekend fuori dagli Stati Uniti sono 13.7 milioni incassati da Furiosa nei quali è incluso anche un esordio da 3.6 milioni in Cina ma il totale resta comunque sconsolante anche fuori dagli Stati Uniti 85.7 milioni per un totale globale di 144.4 milioni ora se questo weekend globale vede un incasso di circa 18 milioni io proietto un totale finale per Furiosa intorno ai 180 milioni di dollari 175 questo significa senza mezzi termini che praticamente una persona su due che nel 2015 si è recato al cinema per vedere Fury Road non è tornato in sala per vedere Furiosa è un dato di fatto Fury Road aveva incassato 380 milioni una roba del genere non dico che siamo alla metà precisa ma poco ci manca è un dato sconsolante ragazzi poi come ho detto la settimana scorsa non facciamoci la testa non è la morte del cinema non è il primo film molto bello che poi non è il capolavoro lo sapete per quanto mi riguarda che era Fury Road non è un grande film il primo grande film della storia del cinema a battere il muso come si dice dalle mie parti nei confronti di un interesse quasi nullo da parte del pubblico si rifarà sicuramente negli anni con l'on video con lo sfruttamento di streaming e compagnia cantante un po' come era successo a Fury Road ripeto mettiamo in prospettiva le cose Fury Road non era stato un successo non era stato un flop così clamoroso ma neanche il successo che a qualcuno piaceva ricordare in modo idealistico però veramente questi sono numeri sconsolanti il fatto che il film non riuscirà a raggiungere i 200 milioni globali a fine corsa è deprimente è veramente deprimente non è una questione solo di andamento generale anche se purtroppo ha influito anche quello ce lo sta dimostrando Bad Boys ce lo dimostrerà sicuramente la prossima settimana Inside Out 2 ma lo stesso Pianeta delle Scimmie io sono sicuro che alla Warner sono lì che pagherebbero oro per avere una performance come quella del Regno del Pianeta delle Scimmie per Furiosa in questo momento ragazzi i problemi del mercato in generale ci sono ma è palese che l'interesse per questo film era bassissimo poi ovviamente invochiamo l'idea del cinema e della cinefilia ma al solito il pubblico è sovrano bisogna prendere e portare a casa e come continuo a dire da qualche giorno non lamentiamoci non lamentatevi se non vedremo mai il terzo e ultimo film programmato da George Miller della saga di Furiosa e Mad Max ringraziamo il cielo di aver avuto quanto meno Furiosa perché è già stato un miracolo vedere questo film arrivare nelle sale di tutto il mondo al settimo posto The Fall Guy ancora in sala racimola gli ultimi milioncini briciole 2.7 milioni questo weekend negli Stati Uniti con un calo comunque sostenuto del 35.7% rispetto allo scorso weekend totale negli Stati Uniti che ha toccato 85.1 milioni di dollari nel resto del mondo il totale ha raggiunto gli 80 milioni e mezzo quindi anche qua quasi pareggio tra Stati Uniti e il resto del mondo per un totale di 165.6 milioni buon risultato vista la stagione cattivo risultato visto il budget ben sopra i 100 milioni di dollari all'ottavo posto ragazzi ma io ogni tanto mi perdo le chicche di informazioni e di progetti c'è The Strangers Chapter 1 l'abbiamo già visto nelle ultime settimane con 1.8 milioni è un calo del 50.3% che raggiunge i 32.2 milioni in tutto il mondo negli Stati Uniti e 37.6% no ragazzi scusate sono fulminato 37.6 milioni di dollari in tutto il mondo se si contano anche i 5.4 milioni incassati fuori dagli Stati Uniti ma io non avevo capito una cosa importantissima questo The Strangers Chapter 1 intanto è un sequel diretto del primo film quello con Liv Tyler e credo che non tenga in considerazione The Strangers Prey at Night è tra l'altro molto bello per quanto mi riguarda il sequel uscito qualche anno fa ma è solo il primo di una trilogia girata tutta back to back diretta tutta dal mitico Rennie Harlin cioè io non avevo mi ero perso questa informazione fondamentale cioè io a questo punto non vedo l'ora di vedere il film meno male che nel frattempo è uscita anche la notizia che The Strangers Chapter 1 arriverà in Italia il 10 di luglio nelle sale quindi non vedo l'ora Rennie Harlin per me è un regista di culto assoluto se non sapete chi è informatevi un attimo e a questo punto l'hype è altissimo il budget è stato basso quindi l'incasso che sarà intorno ai 50 milioni totali a fine corsa è più che adeguato a giustificare diciamo il progetto poi si hanno girato tre film slash tutti insieme hanno ancora di più ammortizzato i costi speriamo che gli altri due capitoli possano diciamo andare altrettanto bene o giù di lì a questo punto non vedo l'ora di essere in sala per vedere questo The Strangers Chapter 1 chiudiamo chiudiamo con due dati veramente bassi bassissimi deprimente gli ultimi due film nella top 10 americana sotto il milione di dollari al nonno posto IQ The Dumpster Battle film anime di cui abbiamo già parlato lo scorso weekend in cassa 820.448 dollari calando verticalmente del 75 77.5% rispetto allo scorso weekend il totale negli Stati Uniti è di 5.7 milioni e di poco si allontanerà da questa cifra finale chiuderà poco sopra i 6 milioni ma il totale mondiale è di 84.8 milioni di dollari a breve vedremo anche l'andamento in Italia chiude la top 10 in a violent nature film slasher sperimentale che avevamo già visto protagonista della top 10 la settimana scorsa con 640.000 dollari un calo anche in questo caso verticale del 70.3% e un totale di 3.6 negli Stati Uniti ovviamente non ci sono dati internazionali ci siamo un po' messi le mani nei capelli o nella barba dipende per Furiosa per altri diciamo dati provenienti dagli Stati Uniti preparatevi perché in Italia le cose vanno decisamente peggio intanto il 2024 è sempre più in difetto di incassi nei confronti del 2023 all'inizio anno sembrava così bello il confronto sembrava che il 2024 fosse in grado di staccare clamorosamente in positivo l'anno precedente pensavamo che sarebbe stato il primo anno di quasi normalità post-pandemica invece freno a mano tirato e anzi quasi quasi freno pigiato e retromarcia inserita per andare indietro lungo la strada nuovo weekend bagno di sangue infatti i botteghini americani questo weekend hanno registrato un incasso totale in tutto il paese di soli 2.249.513 euro record tra l'altro negativo dell'anno corrente quindi è l'incasso più basso di un weekend del 2024 pensate che nella top 10 ci sono 4 titoli sotto i 100.000 euro di incasso una roba una tragedia vera e propria nessun film della top 10 supera i 1000 euro per copia l'anno scorso nel weekend corrispettivo del 2023 si incassavano 3.862.063 euro quindi il calo quest'anno nel weekend corrispettivo è del 41.6% quasi la metà signore e signori non parliamo poi del confronto con il 2019 quando l'incasso era praticamente pari a 5 milioni nello specifico di 4.965.183 euro bagno di sangue e oggi iniziano i cinema days che per me sono una vergogna e vabbè quello è un altro discorso rimangono in testa alla classifica i me contro te con operazione spie che però confermano l'andamento negativo del trend legato alle loro produzioni infatti il film cala del 54% rispetto allo scorso weekend registrando una media per copia di 957 euro incassando solo 486.079 euro il totale dopo 10 giorni di sfruttamento e due weekend è di 1.808.623 euro sono lontani i fasti dei film vendemè contro te da 4-5 e più milioni di euro non ho i dati alla mano al solito qualche persona poco lungiminante esulterà perché questo prodotto non ha incassato e quindi viva il cinema che conta no è una tragedia perché se la gente non va più neanche a vedere i film per famiglie che macinavano milioni in passato vuol dire che c'è un problema bello bello grosso al secondo posto c'è Kinds of Kindness di Yorgos Lantimos trovate la recensione senza spoiler linkata alla fine di questo video era ovviamente logico non aspettarsi una performance paragonabile a quella di Povere Creature che poteva contare sulla vittoria del Leone d'Oro sulla spinta dei premi soprattutto e delle nomination agli Oscar sul lungo termine una natura anche un pochino più glamour un pochino più bizzarra e popolare anche nell'aspetto estetico del film e infatti Kinds of Kindness con una media di 855 euro per copia incassa nel suo primo weekend di sfruttamento 389.054 euro vi basti pensare che il primo weekend il primo weekend di Povere Creature aveva registrato un incasso di pochi euro sotto i 2 milioni totali quindi siamo in un altro campionato decisamente con Kinds of Kindness che faticherà a raggiungere i 2 milioni dipende anche un po' dalla tenitura del prossimo weekend niente di strano comunque niente di strano il film è decisamente appunto meno pop meno è più respingente dubito che ci sarà un passaparola positivo che possa portare in sala non tanto gli appassionati che ormai seguono l'antimos come autore ma il pubblico generalista che invece era stato affascinato incuriosito da povere creature quindi insomma non mi metterei le mani nei capelli è già un bel risultato il fatto che comunque l'antimos abbia confermato di avere anche nel nostro paese una base di appassionati piuttosto fedeli che gli permettono di registrare incassi comunque importanti vista la tipologia di film al terzo posto The Watchers da noi conferma diciamo l'andamento in negativo anche rispetto alle aspettative che ha registrato in tutto il mondo media di 727 euro e un incasso decisamente misero di 237.730 euro non raggiungerà il milione a fine corsa come tanti horror abbiamo visto fanno negli ultimi tempi va male nel resto del mondo va malissimo anche da noi Furiosa che praticamente si appresta a concludere la sua corsa in sala neanche un mese dopo il suo esordio calo verticale del 63% una media di 592 euro per un totale questo weekend di 139.172 euro che porta nel suo totale a 1.576.410 euro riusciranno i Cinema Days con tante presenze a portarlo a superare i 2 milioni non è del tutto sicuro neanche questo quindi anche da noi Furiosa non ha attecchito ricordiamoci che Fury Road aveva chiuso intorno ai 3 milioni di euro quindi diciamo che il calo a livello di percentuale è minore rispetto al globale ma è comunque importante al quinto posto IF Imaginary Friends cala del 52% incassa 124.239 euro con una media di 455 euro per schermo e si avvicina sempre di più ai 2 milioni con un totale di 1.816.283 euro al sesto posto sempre per la questione horror che incassano decisamente poco ultimamente l'esorcismo ultimo atto con Russell Crowe crolla verticalmente al suo secondo weekend di sfruttamento immagino che il passaparola non abbia aiutato con una media di 429 euro per schermo incassa 120.129 euro e raggiunge un totale di 606.327 euro al settimo posto la stanza degli omicidi nuovo esordio della settimana con soli 292 euro per schermo incassa solo 73.653 euro all'ottavo posto IQ battaglia all'ultimo rifiuto cala non verticalmente praticamente va quasi a zero con meno 83% e soli 73.108 euro incassati in questo secondo weekend media di 366 euro totale 675.645 euro e nonno posto ci dobbiamo fermare un attimo perché le tendenze vanno sempre sottolineate al nonno posto abbiamo questo hotspot amore senza rete mi dispiace giudicare solo sulla base del trailer ma solo quello ho visto e solo quello vedrò ma l'avete visto il trailer di questo film l'avete visto? ascoltateli come parlano come recitano come si fa ragazzi come si fa hotspot amore senza rete continuo questa meravigliosa tendenza del cinema italiano a registrare la media più bassa delle top ten nelle quali entrano 261 euro per questa commedia romantica nostrana che incassa soltanto 72.485 euro continuiamo così continuiamo a farci del male cinema prodotto coi soldi nostri per nessuno ma tanto Paolo Innocenti ha detto che è bello così perché l'arte l'arte l'amore e gli unicorni che volano chiude la top ten italiane di questo sono contento l'arte della gioia parte 1 il blocco dei primi tre episodi della serie Sky diretta da Valeria Golino recuperatela perché ci è piaciuta non poco sia a me che a Lorenzo Pari che stranamente anche a Paolo ci troviamo d'accordo su questo prodotto calo del 56% media bassa comunque di 340 euro per schermo 60.479 euro incassati questo weekend totale 243.654 euro come vedete ovviamente l'incasso è bassissimo ma siamo comunque davanti a un'operazione anche di promozione per un prodotto che appunto deve essere deve vedere il suo successo più importante su Sky questo giovedì il 13 escono i secondi tre quindi dal quarto al sesto episodio che concludono la miniserie questi signore signori membri della giuria no scherzo erano tutti i numeri del lunedì per una buona notizia ce ne sono 5 brutte anzi bruttissime non abbattiamoci ho letto anche in questi giorni un articolo dagli Stati Uniti in cui si spiegava perché gli analisti non sono preoccupati per la situazione attuale per il futuro del box office era tutto più o meno atteso ci sono dinamiche molto più difficili dei semplici nudi crudi numeri di cui parliamo anche un po' per gioco qua l'industria è sfaccettata ci sono tanti elementi tante realtà tante dinamiche che noi non conosciamo e che ovviamente ci passano sopra alle nostre testoline che non di cui delle quali non parliamo che per le quali non abbiamo gli strumenti per analizzarle prendiamo il momento negativo facciamone lezione speriamo che nelle prossime settimane a partire dall'arrivo di Inside Out 2 il mercato possa ricevere una scossa scossa che per quanto mi riguarda questa piccola polemica in conclusione non porteranno i cinema days perché il quadruplo delle presenze per 5 giorni non ha senso se i biglietti costano la metà perché è una cosa veramente che per me non ha nessun tipo di senso buttiamo altri soldi pubblici per pagare gli esercenti perché nessuno se no va al cinema ma solo 5 giorni l'anno sono quelle politiche di manifesto di non lo so di comunicazione che per me non hanno assolutamente senso fanno perdere anche di valore al cinema in quanto tale non mi far pagare 3 euro e 55 giorni fammi pagare 6 euro tutto l'anno forse come dice Tarantino in un video che in questi giorni è diventato virale bisognerebbe tornare a rendersi conto che il cinema è nato come forma artistica popolare forma artistica che dovevano vedere tutti i padri di famiglia le casalinghe gli operai le donne in carriera i figli i cugini gli zii le famiglie intere la domenica quando si riposavano alla fine di una settimana di duro lavoro abbassare questi prezzi e riportare la gente in sala in maniera più popolare invece che organizzare queste vetrine decisamente ridicole vabbè chiudo la polemica tra me e il sottoscritto per citare sempre la mitica già la passband ragazzi questi erano tutti i numeri del lunedì non ci vedremo tra troppo tempo perché oggi sempre lunedì 10 giugno ci vediamo alle 14 in diretta con la nuova puntata di innocenti ma non troppo la facciamo facciamo una oggi e una domani perché poi da mercoledì a venerdì sarò fuori città per lavoro quindi questa è settimana a mezzo servizio ma oggi abbiamo fatto i numeri alle 14 innocenti ma non troppo domani innocenti ma non troppo e anche la recensione senza spoiler di The Watches quindi salviamo il salvabile forse sabato dopo pranzo riusciamo devo sentire il dottor Brandi a fare The Collector con le novità del mese di maggio quindi nonostante gli impegni lavorativi e le trasferte cerchiamo anche questa settimana di portare a casa una bella programmazione per restare aggiornati sulla programmazione di Inno al Cinema seguite la nostra pagina Facebook il nostro profilo Instagram e se volete il mio profilo Instagram privato Michelin85 se non siete ancora iscritti iscrivetevi al canale intanto hanno suonato alla porta e attivate la campanella per le notifiche più siamo meglio è quindi condividete Inno al Cinema con i vostri migliori nemici i vostri peggiori amici grazie mille di aver seguito anche questa settimana la rubrica dedicata al box office arriveranno tempi migliori abbiamo visto un accenno anche oggi grazie grazie mille di essere sempre qua o voi fedelissimi follower di Inno al Cinema buon inizio settimana e alla prossima